Ok ragazzi dovremo star registrando tutto purtroppo ho perso una scommessa e mi tocca shoppare 100 euro ovvero tutto il pass o forse anche qualcosa in più sinceramente comunque tutti i 100 livelli del pass battaglia però sinceramente ragazzi ci sono spider mi sono skin fighissime c'è pure the rock ragazzi è un certo livello segreto quindi tanta tanta roba lo faccio molto volentieri ma prima ragazzi di andarlo a shoppare veramente importantissimo prima di reagire a tutto uno e l'altro mi raccomando codice creatore dovete ricontrollare ben tre volte per supportarmi veramente al massimo ferro con un o come leggete qua sotto di me nel negozio oggetti guardate io lo vado a reinserire ferro perfetto accettiamo lo potrete anche rivedere ragazzi comunque in basso a destra intanto vabbè qua si bugga tutto ok lo vedete qua in basso a destra ragazzi allora fermi tutti stiamo per andare a shoppare il pass battaglia io direi di andare a dare ok no ragazzi fermi puoi raggiungere i livelli 25 in qualsiasi momento in che senso non lo so comunque io volevo un attimo guardarlo almeno il pass battaglia anche se andremo a shopparlo subito ok questa skin molto bella questa qua pure ok vediamo questo balletto oh che figata sto balletto ok skin del lama perfetto un altro lama questo ok questo è tanta roba ragazzi una macchina tipo volante no ragazzi ci sono un sacco di cose bellissime questa skin giuro che mi piace un sacco poi ci sta questo questo qua sarà la nuova skin sicuramente di qualcuno qualcuno del più scarso del team forse di best comunque belle belle ragazzi no tutto bellissimo e siamo a spider man ragazzi facci pure fermi c'è pure spider man simbionte no ragazzi non ci credo la tutela il simbionte fermi tutti fermi tutti ragazzi è il momento ci siamo ci siamo stiamo per andare a shoppare tutto il pass battaglia della season che cavolo sto dicendo della season 1 capitolo 3 di fortnite allora otteniamo il pass battaglia ragazzi in teoria abbiamo vi ripeto si andiamo a rivederlo 22.000 vbucks in più vi ricordo ancora una volta ragazzi importantissimo scusate se ve lo dico migliaia di volte però inserite nel negozio oggetti intanto qua tutto bagatissimo ragazzi si sono appena aggiornati i server di fortnite quindi tutto super bagato comunque il codice ferro con una o come leggete qua sotto i me nel negozio oggetti vabbè noi ormai l'avevamo visto prima quindi ci possiamo finare è il momento ragazzi ottieni il pass battaglia e acquistiamo tra 3 2 1 e boom ragazzi acquistato il pass battaglia ok io farei subito i 25 livelli così abbiamo un piccolo scondicello ragazzi specchiamoci pure questo attenzione ok ma aspettavo qualcosa di magari più figo potevano fare spider man che passava con la ragnatela qualsiasi cosa però buono ragazzi abbiamo subito shanta ragazzi che la useremo subito per fare la nostra prima vittoria nella season 1 capitolo 3 di fortnite proseguiamo proseguiamo guardiamo un po' ragazzi 125 stelle nel frattempo ah fermi tutti è vero che adesso che ci sono le stelle ragazzi ok meno male che non mi ha fatto sbloccare una una perché sennò se le ravo no vabbè ragazzi adesso che ci sono le stelle dobbiamo veramente uno a uno passarle tutte ma veramente ragazzi no fermi ma qua si bugga pure tutto fermi un attimo fermi un attimo allora ehm vabbè qua ragazzi più bug ci sono più l'altro vabbè stop un attimo prima che qua ci mettiamo anni e vi faccio subito vedere quando shoppo tutto il resto dato che sapete voi farmi spendere soldi vi piace è una cosa abbastanza plausibile questa intanto però al gioco non piace? ehm qualcosa è andato storto vabbè eh ragazzi vi spengo un attimo adesso mi rivedete normale tranquilli ok ragazzi per grazia divina siamo riusciti a far ripartire se non sbaglio tutto allora riscattiamo subito il mitico ronin ragazzi allora no riscatta tutto ok si può riscattare tutto ragazzi si può riscattare tutto riscatta tutto tieni premuto sempre allora se mi si bugga una se mi si bugga un'altra volta porca di quella vacca ma non vale ma cos'è questa cosa ragazzi dai ma almeno fate i seri per una volta vabbè sentite ragazzi vi dico intanto una cosa vi narro una leggenda ovvero che se shoppate tutto con il codice no non è vero non esistono le compenze però mi raccomando ragazzi iscrivetevi se ancora non avete fatto il canale nel frattempo che vi faccio vedere questa noia tanto ci mette 10 secondi ragazzi dopo vi farò vedere subito shoppare tutto perché se no qua è una noia mortale sinceramente andare avanti con tutto che va ops e adesso gira ancora ah no che è andata però meno male e non so se mi ha dato le cose nel frattempo no non mi ha dato nulla però va bene facciamo così ragazzi guardate andiamo su shoppa livelli vediamo dov'è eh come si fa a shoppa livelli acquista livelli ragazzi lo stiamo per fare più 10 più 10 più 10 più 10 no ragazzi no i vbucks se ne vanno 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 11.250 vbucks abbastanza per sproccare la pagina bonus ah arriviamo allora al livello 101 se ci può no no voglio arrivare al 101 io voglio shoppare tutto vabbè non ci può penso comunque ragazzi è il momento lo sto per fare 11.250 vbucks in una botta ragazzi io vi ricordo almeno per il supporto codice creatore ferro come leggete qua sotto in me da inserire nel negozio oggetti lo stiamo per fare ragazzi 3 2 1 e boom ragazzi cosa è successo a tenere premuto e boom boom ragazzi porca di quella va ed eccoci qua no ragazzi non è che mi ha fatto sprecare più vivax vero fermi tutti 375 stai intanto pass battaglia no ragazzi altre 375 no ragazzi emm se mi ha fatto sprecare più vivax o magari più soldi no ragazzi ma io non ho tutti questi soldi sulla carta fermi no ragazzi ragazzi oh no ragazzi fermi tutti ragazzi voi avete presente che se questi sono tutti i soldi che se ne stanno andando alla mia carta io sono diventato povero ragazzi ok ok almeno sta ok questa è una figata ragazzi che mi fa vedere però fermi ok no mi ha tolto solamente una volta i vivax ok si me li ha tolti solamente una volta meno male intanto abbiamo 408 stelle allora si può riscattare tutto insieme vediamo se me lo fa fare 403 stelle prendiamo tutto ragazzi vai dai ragazzi che manca poco voglio sbloccare subito tutto voglio subito spider voglio subito il zimbionte voglio subito tutto anche perché ho perso la scommessa purtroppo ragazzi mi tocca anche sicuramente dai 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 vediamo ragazzi sono in hype porca vacca ferro io ho appena speso 120 euro per tutto il pass ti sei appena comprato tutti i livelli del pass battaglia non dovresti essere così invece sì che lo sono ragazzi sono carichissimo ragazzi dai dammi riscattami queste ricompense dai che voglio vedere spider man simbiote dai su su veloce a epi games per la porca di quella vacca ragazzi no fermi io ci continuo allora ragazzi io vi chiedo scusa io vi chiedo scusa ma massimo tre volte fatemi provare fatemi provare tre volte iscrivete nel frattempo nei commenti se anche voi ragazzi fatemi sapere se anche voi nei commenti successe una cosa del genere al minimo ragazzi ci scommetto che mi succederà un qualcosa che mi toglie o tutte le cose che ho sbloccato o mi toglie v-back e non mi dà le skin qualcosa sicuramente è successo 100% conoscendo la mia fortuna ragazzi sicuramente al 100% succederà così riscatto ricompense ragazzi siamo ferro e dovremmo avere computer fatto di ferro dovrebbe porca di quella vacca ragazzi non va bene questa cosa ma fermi io voglio ricomp- tutto volevo fare volevo fare il bel video e dopo la gente dice che non mantengo le promesse ragazzi sentite io l'ho mantenuta la scom- orca vacca no non va bene 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 ehm vabbè qua si è buggato tutto io che ci devo fare però non è neanche colpa mia ragazzi fermi vi fatemi provare ok quella buona fermi tu dica è quella buona ragazzi ragazzi io giuro che se qualcuno mi scrive qua sotto nei commenti che io non mantengo che io non mantengo le promesse ve lo giuro che mi incavolo ragazzi perché ormai intanto ho shoppato cioè a sto punto me lo dicevate prima facevo addirittura a meno intanto qua tutto super buggato vabbè qua i v-back se ne vanno ma che cavolo ragazzi veramente così 9 incarichi nel frattempo ok sa ok qua ci sono i vari vari incarichi attenzione ragazzi la mappa full non sbloccata che figata ragazzi ci sono intanto poche città sinceramente col nome fare il mio ce ne sono pochettine però non posso neanche lamentarmi hanno cambiato completamente la mappa e io mi sto a lamentare ferro non ti meriti altro allora io vorrei riprovare per l'ultima volta per favore l'ultima volta l'abbiamo shoppato ragazzi abbiamo shoppato tutto ragazzi ce l'abbiamo fatta non ci credo che figata e abbiamo dove è spider-man simbiote dove è spider-man simbiote fermi ah sarà nelle leggendarie ultra mega fermi carnage un nuovo cos'è non mi interessa di lui eccolo ragazzi non ci credo abbiamo spider-man spider-man simbiote c'è pure uno spider-man bianco no ragazzi no ragazzi che cavolo sto vedendo ragazzi fermi tutti con queste super skin con queste super cose fighissime io vi lascio fatemi mettere almeno il mio mitico spider-man simbiote ti è equipaggia perfetto no ragazzi se c'è un altro bug qua e non mi fa mettere le skin io sclero tantissimo ragazzi vediamo 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 ultima cosa poi vi lascio ragazzi poi vi lascio e ci vediamo con la prima vittoria della season 1 capitolo 3 di fortnite dai 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 nulla ragazzi oggi ce l'abbiamo tutte noi contro oggi succedono tutte noi cosa ci devo fare io scusatemi dai su vabbè ragazzi io direi almeno tutto l'abbiamo sbloccato la promessa l'ho mantenuta ragazzi godetevi questo video godetevi i prossimi video qualche lama è andato storto tanto per cambiare ci vediamo nei prossimi video ragazzi mi raccomando stay tuned lasciate un bel pollice di su iscrivetevi al canale attivate la campanella se quello avete fatto e codice creatore ferro nel negozio oggetti con una o abbiamo pure cambiato un nome del canale ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao